Salve a tutti ragazzi, ben ritrovati su Esa Channel. Due cose sono successe di recente che mi hanno fatto sviluppare una riflessione che mo' vi beccate sotto forma di video. La prima è l'uscita del videogame God of War per PlayStation 4. Aperta parentesi, voi starete notando che non ho comprato ancora Nintendo Labo. Le due cose hanno molto a che vedere l'una con l'altra, nel senso che sto un pochino soppesando finanze e soprattutto tempo, perché i titoli esclusivi per PlayStation 4, che ovviamente mi sto perdendo, God of War incluso, iniziano ad aumentare. Penso anche a quello che sarà Yakuza 6, penso a Persona 5, che è un gioco che mi dà molto fastidio non aver provato. Insomma, inizio ad essere in quella fase in cui arriva la terza, ma dopo PC e Switch. Probabilmente arriverà la terza macchina da gioco. Per me, quindi sarà anche un discorso di attrezzatura o comunque come organizzarmi per trasmettere su Twitch. I giochi che eventualmente porterò della Play 4. Quindi Labo in questo momento non è il suo momento, per quanto mi riguarda. Detto questo, God of War, quindi ovviamente non l'ho giocato, non è un gioco che conosco. Però seguendo un pochino il dibattito intorno ai VG, sono rimasto abbastanza stupito, molto negativamente, ma forse oramai si fa fatica a stupirsi, delle polemiche che ci sono state quando è uscito God of War. Opinion Leader, riviste del settore, eccetera, sono stati riforniti del gioco qualche giorno prima, così da avere la recensione pronta, una recensione informata, al momento della fine dell'embargo e dell'uscita del gioco, per fare ovviamente un servizio sia al gioco stesso che all'utenza. Ok, sappiamo che funziona così e va molto bene. Sono quindi uscite le recensioni e uno dei, secondo me, grossi punti deboli della critica videoludica, sono usciti i voti, elemento che io trovo abbastanza infantile, però vabbè, che cosa possiamo farci, ci sono e ce li prendiamo, sono usciti i voti al gioco. E si è creata una grandissima polemica intorno alle valutazioni che God of War stava ricevendo. Questa polemica però non era fra coloro che lo avevano valutato, cioè gli unici che erano titolati per polemizzare intorno alla valutazione del gioco, perché erano gli unici ad averci giocato, quindi in percentuale sulla comunità videoludica, uno zero virgola, lo capite benissimo. È una polemica che ha coinvolto tutti, migliaia di utenti letteralmente che non avevano neppure sfiorato il gioco erano pronti a dare la loro valutazione della valutazione di qualcosa che non avevano neanche visto. Questo mi ha fatto riflettere per la centesima volta, per quello dicevo che stupirsi poi si fa per dire, mi ha fatto riflettere per la centesima volta sull'utenza, purtroppo, ahimè, sulla gran parte dell'utenza degli appassionati di videogiochi e quindi su quell'eterna infanzia devo dire che il movimento dalla quale, il movimento videoludico fa così fatica ad emergere, nonostante i ben distinguibili paladini, vi ricordate di cui parlavo nel video, i videogiochi sono arte, di qualche tempo fa. E questo è l'elemento 1, primo tassello della mia riflessione. Secondo tassello, mi sono trovato di recente a fare due chiacchiere con un noto divulgatore, ricercatore scientifico che conosciamo benissimo e ovviamente mi sono sentito porre la domanda che mi sento porre molto spesso, anche da molti di voi. Wesa, ma perché ti occupi di videogiochi? Semplicemente, ma perché? Che è una domanda assolutamente corretta. Ed è una domanda che, come sa chi è appassionato di videogiochi, come lo sono io da tantissimi anni e stando ben attento al discorso della storia del design dei videogiochi, dell'aspetto artistico e quant'altro, è una domanda da face palm, ma non da face palm verso chi te la pone, ma da face palm ancora una volta verso l'immagine che proietta di sé il movimento videoludico, che è un'immagine in coerenza a quanto dicevo prima, è un'immagine estremamente infantile. E quindi se tu sei percepito come persona adulta, in qualche modo matura, te lo sentirai chiedere, ma che cazzo parli di videogiochi? Adesso il nostro amichevole chimico di quartiere non me l'ha chiesto così, ma insomma la ciccia è quella. Ma perché? Ma che è? Ed è una domanda alla quale non è così facile rispondere, non è così facile rispondere perché se io mi trovo a dover persuadere, qui iniziamo il nostro discorso, se io mi trovo a dover persuadere una persona che ha poco tempo e che utilizza bene il suo tempo lavorativamente facendosi un discreto mazzo e che quindi arriva al momento dello svago o del lobby, con una riserva di energie cognitive limitata, per cui insomma è il momento del relax, poi una persona in gamma nel momento del relax cerca comunque sempre la qualità, però è anche il momento del relax. Come faccio a persuadere questa persona ad avvicinarsi al mondo dei videogiochi? Se ci pensate a un discorso simile a quello che avevamo già fatto quando parlavamo di Undertale, Saramago eccetera e Sabaku in un video precedente, però in realtà si sviluppa ulteriormente. Qui non si tratta soltanto di dire, hey cerco di tirarti fuori delle argomentazioni, cerco di persuaderti, cerco di mostrarti come i videogiochi possono essere qualitativi e possono essere artistici, no? In questo caso mi sono trovato come spesso mi capita a tirare fuori To The Moon, a tirare fuori le avventure della Lucas, per cercare di descrivere il fatto che possono esistere videogame che hanno una scrittura all'altezza della migliore opera cinematografica, no? E che da un punto di vista della profondità dei temi, dello spessore filosofico che possono portare non hanno nulla da invidiare. Tuttavia, mentre ripetevo questo discorso che mi è già capitato di fare altre volte, sentivo che qualche cosa mancava. E sono rimasto insoddisfatto, non sono riuscito ad essere persuasivo e mi sono domandato che cosa manca. E soprattutto, il fatto che ci sia qualche cosa che manca, ha qualche cosa a che vedere con questo problema dell'eterna infanzia della comunità videoludica? In qualche modo sì. Perché la comunità videoludica, ma ovviamente è una generalizzazione che offenderà qualcuno che non si deve sentire offeso perché è una generalizzazione imprecisa, perché la comunità videoludica spesso, anzi ciclicamente ricade in un livello infanzia di dibattito pubblico. Perché la comunità videoludica conosce un turnover incessante. Si entra, come tutti, come me, come chiunque altro, si entra alla passione, si accede alla passione videoludica in età molto molto giovanile e poi tipicamente se ne esce, salvo eccezioni, ai 25-30 anni o quello che è. E questo fa sì che l'età media, e quindi giocoforza, le capacità critiche, eccetera, eccetera, dell'appassionato di videogiochi medio, quindi è ovvio che è una generalizzazione, rimanga stabile nel tempo. Il problema, in realtà, della comunità videoludica, per cui se parlo all'amichevole chimico di quartiere, lui è fuori da questo eterno limbo generazionale. È proprio quello che è una comunità che non invecchia. È bello che rimanga giovane, ma è triste che non invecchi. Questo è un problema, un problema che devo cercare di capire, devo cercare di analizzare perché succede così. Se mi trovo con Bressanini, e facciamolo sto nome, se mi trovo con Bressanini a dirgli ascolta Dario, vorrei spiegarti perché vale la pena giocare, però so che sei una persona molto impegnata, sei impegnata a fare cose di grande valore, e quindi capisco il valore del tempo, il valore che il tempo ha per te, che è quello che dovrebbe avere per chiunque, dal mio punto di vista. E quindi mi rendo conto che se cerco di spiegarti perché videogiocare, in realtà sto cercando di invitarti a fare un investimento di tempo importante. Devo farti capire perché ne vale la pena, versus un telefilm, versus... uno svago che sia sì qualitativo, ma molto meno, e qui siamo arrivati al punto, faticoso. Che cos'ha il videogioco di differente rispetto alla serie Netflix o comunque alla serie TV? Anche la migliore possibile, anche Breaking Bad, ok? Breaking Bad, che per me è la migliore serie che io abbia mai visto, oppure Benvenuti all'NHK se vogliamo stare in versante anime. Che cos'hanno di diverso rispetto a To The Moon, oppure Shadow of the Colossus, i soliti esempi che facciamo sempre? Sono meno faticosi, perché anche l'opera più straordinariamente qualitativa, da un punto di vista filmico o seriale, è comunque costruita su una buona quantità di cliché che ci fanno faticare molto meno, da un punto di vista dell'impegno, e ripeto, anche la più straordinaria. E in più è molto più passiva. vedere Breaking Bad è molto meno faticoso che giocare anche solo a To The Moon, anche solo a un gioco che è talmente il grado zero dell'interazione che davvero è un carillon che tu devi semplicemente girare una manovella per farlo andare avanti. eppure la manovella la giri. E Breaking Bad, o NHK, o la vostra serie preferita, o film preferito, la manovella la gira da solo. Questo non è poco. Non è poco perché al termine di una giornata faticosa, girare una manovella da un punto di vista cognitivo è un esborso ulteriore, è una fatica ulteriore. To The Moon, io non lo sorbisco passivamente. Devo comunque spingere io, perché la storia va davanti. Questa è l'interazione, ovviamente. Immaginatevi, se dovessi persuadere qualcuno, che Ikaruga, che per me è uno dei più grandi videogiochi mai creati, è l'apoteosi della commissione gameplay, narrazione, profondità filosofica. Cioè, Ikaruga ti devi fare un discreto mazzo per arrivare alla fine del gioco, anche a livello easy, ok? Quando tu chiedi a qualcuno di appassionarsi ai videogiochi, o quando tu vuoi argomentare con qualcuno, guarda come il medium videoludico è ricco, quante cose ti può offrire. Tu non gli stai soltanto dicendo, ti presto il cofanetto di Breaking Bad o di Conan, ragazzo del futuro. Tu non gli stai dicendo soltanto questo. Gli stai dicendo, prendi in mano il joypad, prendi in mano il controller che sia. Questa è una grande differenza. Si fa più fatica a videogiocare. Ripeto, questo proveniente è difficile da capire per una persona molto giovane, che ha tanto tempo e tanta energia da spendere e quindi non si sofferma su queste piccole distanze. Ma in realtà la piccola distanza fra la serie e il video game non è piccola se il tempo a tua disposizione è poco e se hai faticato durante la giornata. È meno rilassante videogiocare. È più impegnativo. E questo fa sì che si arriva al discorso di prima. L'eterno limbo generazionale, che è una generalizzazione e che grazie al cielo conosce delle eccezioni, all'interno del quale si ritrova sempre la community videoludica. E che è anche una delle cause per cui il dibattito pubblico videoludico ogni tanto cade in dei fossati di infantilità, tipo discutere se God of War meriti il 10 senza che nessuno l'abbia mai giocato, è solo un esempio recente, per cui ti cascano le braccia. Il problema è proprio questo. E come si risolve questo problema? Perché crescendo, tempo dedicato al lavoro, non tutti sono abbastanza bravi o semplicemente non tutti hanno avuto l'interesse o non tutti è capitato di avere la fortuna. Queste cose si mescolano. Io sono molto poco per la fortuna. Molto mi interessa di più il fatto che uno possa avere ovviamente e giustamente interessi totalmente diversi, oppure che essere così imprenditorialmente bravi non è da tutti, però esistono ovviamente elementi imponderabili casuali, ci mancherebbe altro. Non tutti hanno la possibilità di inserire il videogiocare nella loro vita adulta. E questo è uno dei problemi da risolvere, secondo me anzi finisce per essere il problema da risolvere, per chi comunica la passione videoludica, per chi comunica la storia del design videoludico, la storia dell'evoluzione dei videogiochi e quello che succede adesso nel mercato dei videogiochi. E questo è un problema molto grande. Nel senso che ci sono tanti esponenti, paladini li chiamavano nel video sui videogiochi e l'arte, che fanno moltissimo per mostrare lo spessore, per mostrare la profondità, per mostrare quanta ciccia c'è nel mondo dei videogiochi, che non sono tutti il giochino per cellulare o le cagate mangia-tempo, i giochi senza fondo di cui già abbiamo parlato in questo canale, eccetera. Ma possono essere come essere opere d'arte, o comunque forma di crescita, di interesse, di arricchimento. Un modo, l'unica... C'è una sola cosa che mi sembra possa spezzare questo nodo gordiano. Terzo aneddoto, in realtà. L'altro giorno mi trovavo con la mia ragazza, lei non è, a dir poco, appassionata di videogiochi, anche lei risale all'amiga la sua esperienza videoludica quando era piccola con suo fratello e oggi non segue, non sa nulla di videogiochi, non gliene importa niente e altrettanto sa pochissimo di YouTube, però mi fa, ma ascolta, io l'altro giorno le faccio, ma ce li hai 42 minuti perché è uscito un video dell'anima della riscoperta? Cioè, me li dai 42 minuti e devo guardare una cosa? E ovviamente si è incuriosita, perché a forza, no, di battere sullo stesso tasto. E insomma, si siamo guardati insieme il primo episodio della Blind Run, dell'anima della scoperta, questa volta era l'anima della scoperta, dell'Asgardian. E mi è interessato questo aneddoto, perché, come vi ricorderete, dell'Asgardian è un gioco che sono contento che si sia giocato con Sabaku, cioè non è un gioco che io giocherei, l'ho visto, penso di aver capito com'è, non mi permetto di farci la recensione, non avendoci messo le mani sopra, ci mancherebbe altro. Mi sono fatto un'impressione, mi sono goduto la narrazione, no? Assieme a quello che considero un buon narratore, ma per me va benissimo, non è uno di quei giochi che, quando prenderò PlayStation 4, non è uno di quei giochi che entreranno nella mia ludoteca. Lei si è seguita, ha preteso l'aumento della velocità a 1.25, per me è una bestemmia, ma insomma è il compromesso al quale sono dovuto scendere, si è seguita questa puntata di gameplay, di Blind Run, e si è appassionata, cioè mi ha detto, questo si segue, è un piacere da seguire, è un prodotto appassionante. Ecco che, tra seguire un buon gameplay che sappia essere narrativo, e quindi è ovviamente sempre un stringersi la mano fra un buon narratore e gente che ti ha messo insieme un buon videogioco, quindi l'autorialità secondo me sotto ci deve essere, comunque bla bla bla, tra un buon gameplay di quel genere lì, e il tempo, il desiderio, il frega cazzi di fare quell'esborso, anche solo di far girare la manovella, che poi nel caso di The Last Guardian è una farraginosa manovella, ma insomma ci siamo capiti. E quindi in questo senso ecco uno strumento per dire, anche solo per spiegare a una persona che non ha tempo e voglia, guarda che i videogiochi possono essere una turbofigata, non devi fare nulla, ma io non ho voglia di giocare, non devi fare nulla, play su YouTube o ovunque sia, guarda qui, e quindi ti puoi vedere, penso a quello che ho portato io, per non star sempre a parlare degli altri, magari se andate su Quasivero ci sono le omesse pubbliche, la mia blind di Inside, c'è la mia blind di To The Moon, che è forse il gioco principe da un punto di vista contenutistico che mi viene in mente per un pubblico adulto, o comunque non avvezzo ai videogame, se andate su Twitch ora stiamo giocando a Nier Automata, e ci sono altre blind run, insomma essere spettatore passivo del videogioco non è soltanto, tempo addietro lessi molte critiche, su questa cosa qui, in realtà può essere benissimo una porta d'ingresso, ho la sensazione di non avere risolto tutto il problema, non è la stessa cosa, però sono prodotti narrativi buoni per chi non ha oggettivamente lo sbattimento di prendere in mano il joypad e di girare la manovella, e poi a seconda del gioco, col cavolo che è a girare una manovella, vedi appunto The Last Guardian, o esempio estremo Icaruga, che pure ha un'esperienza, ecco però che vedete, mentre parlo mi vengono le obiezioni, nel caso di Icaruga, ma potremmo dire le stesse cose di un baionetta e quant'altro, in realtà c'è un problema, tu non puoi vedere Super Mario, incredibile che non mi venisse in mente, tu non puoi vedere il gameplay di Super Mario, non è la stessa cosa, ci sono giochi per i quali non è mai la stessa cosa, ma è abbastanza la stessa cosa, se poi c'è un buon narratore, c'è un di più che non c'è nel giocare da soli, quindi può essere davvero un prodotto figo, eccetera, però come ti spiego, che se tu finisci Icaruga, ma lo devi finire con le tue mani, con i tuoi muscoli, tu avrai l'esperienza del Satori, meglio di qualunque autore classico del buddismo, possa mai trasferirlo, non te lo posso spiegare, non te lo posso neanche narrare, non te lo posso neanche raccontare, stava nelle tue mani, stava nei tuoi muscoli, in quel caso lì, avere questo senso di trance, che il gioco ti sa dare a un certo punto, grazie alla sua narrazione, alla sua costruzione, al suo design, ecc, 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 C'è qualche chance, ma il problema rimane in grandissima parte irrisolto, è possibile che nuovi modelli di business, legati a modi di finanziamento, come possono essere Patreon, Twitch, ecc, ecc, tanto vituperati, in realtà è possibile che siano una chance per più persone, per essere adulti e videogiocatori, anche solo a livello hobbystico, ma almeno un po' più sostenibile, a livello della mancia, no? È possibile che questa cosa alla lunga riesca, tenendoci giovanissimi, che sono fondamentali, riesca un pochino ad alzare l'età media, e quindi a rendere più ricco e più di confronto fra generazioni, che è una cosa che arricchisce molto, il movimento videoludico. Niente, queste erano le mie riflessioni del giorno, ragazzi, vi ringrazio per aver seguito questo video, e ci vediamo la prossima volta. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.